Si sono tenute nei giorni scorsi le riunioni dell'Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, alle quali hanno partecipato l'assessore di Regione Piemonte e presidente della Regio Insubrica Matteo Marnati, il consigliere di Stato del Cantone Ticino Norman Gobbi e l'assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori, nonché i rappresentanti delle province di Como, Varese e Verbano Cusio-Ossola. Sono stati affrontati diversi temi di particolari...